Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di narrativa contemporanea, un affascinante autoritratto che va oltre la semplice autobiografia. Esplora la visionaria possessione che ha ispirato molti dei suoi romanzi di successo, in cui realtà e finzione si mescolano attraverso la carne e la sua ombra. In un intreccio sottile fra sogno e memoria, la storia invita i lettori a riflettere sulla natura della memoria, della creatività e sull'interconnessione tra esperienza personale e immaginazione, offrendo un'esplorazione affascinante e profonda dell'identità e della natura umana. La trama del libro La doppia vista dello scrittore Roberto Pazzi, casa editrice La nave di Teseo, è la seguente. L'autoritratto che Roberto Pazzi tratteggia, senza nulla concedere al microautobiografismo, mette in scena la possessione visionaria che lo ha ispirato in molti dei suoi romanzi di successo, dove la carne e la sua ombra si inseguono e si compenetrano, fra sogno e memoria, finzione e realtà. Un maturo scrittore si sveglia una mattina in uno stato di grande confusione, non ricorda più chi sia. Incomincia così a confondere i personaggi dei suoi numerosi libri già pubblicati e di quelli che medita di scrivere, con le persone che ha più amato nella sua esistenza. Re Ludwig II, Lucifero e San Francesco d'Assisi si mescolano con la sorella Emilia, il padre, l'amatissimo amico Sandro. La doppia vista, proiettando la sua ambiguità su invenzioni letterarie e affetti privati, gli farà temere di essere in procinto di concludere la sua avventura terrestre. Minacciata da una grave malattia, finita eppure aperta come quelle dei suoi personaggi di carta. Sarà una fra le più belle di queste figure, un'imperatrice romana del Tardo Impero, a venirgli in soccorso, aiutandolo a conciliare vissuto e immaginato, presente e passato. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato, se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.